Dottore Zampaglione, mancava un'ultima persona delle 17 che rientravano nel gruppo criminale per la droga. Ecco, questa persona è stata arrestata. Nell'immediatezza del blitz dell'altra mattina era sfuggita la cattura. Non era presente nel suo domicilio e dalle attività investigative immediatamente avviate è emerso che si trovava in Nord Italia. Ci siamo raccordati immediatamente con un nostro ufficio di polizia della Lombardia e sono quindi iniziate tutta una serie di attività di controlli e perquisizioni che ci hanno poi fatto capire che il soggetto era ripartito per la Calabria. Quindi lo abbiamo aspettato a casa, nei pressi dell'abitazione e quando lo abbiamo individuato è stato bloccato e portato nei nostri uffici. Si tratta di Dolce Domenico alias Spillo, perché? Lui ha questo soprannome, non lo sappiamo, però di fatto era un soggetto addentro al meccanismo di spaccio. Era in contatto con uno dei principali indagati, si occupava soprattutto del rifornimento su Crotone di stupefatti agenti. E tra l'altro a suo carico è emerso un particolare, nel senso che per una partita di droga non pagata ha subito anche l'incendio dell'autovettura. Si chiude il cerchio dunque? Per quanto riguarda adesso i destinatari delle misure cautelari, chiaramente il cerchio si è chiuso, sono stati tutti arrestati. Chiaramente le attività di indagine sono poi su un altro livello per capire questo meccanismo come originava. E' in carcere? E' andato anche lui in carcere, sì. E' andato anche lui in carcere.